Esiste uno strumento che consente di massimizzare i guadagni lasciandoli correre e al tempo stesso limitare le perdite nel trading online? Sì, per nostra fortuna questo strumento esiste, ne parliamo in questo video e si chiama Trading Stop. Andiamo a scoprirlo. Ok, nella scorsa lezione di questo videocorso dove stiamo utilizzando MetaTrader ed è in collaborazione con FBS, un broker di trading, ti ricordo che abbiamo parlato di Take Profit e Stop Loss. Magari prima di vedere questo video, se ancora non hai visto quello precedente, ti consiglio di guardarti quello precedente. Ancora vedete che l'operazione che abbiamo fatto l'altra volta, così per esempio, è ancora attiva. E se vi ricordate ragazzi, l'altra volta vi avevo detto che con il Take Profit effettivamente si riesce a consolidare il profitto, quindi a chiudere l'operazione con guadagno. Qual è il problema? Che quando ci sono dei trend pesanti in atto, noi se andiamo a utilizzare un Take Profit, è vero che si consolidiamo le perdite, però al tempo stesso se il mercato continua magari a crescere e noi siamo andati long, oppure se il mercato continua a scendere e noi avevamo shortato quello a determinato cross, succede che ci andiamo a precludere, anche se abbiamo comunque guadagnato, però ci andiamo a precludere tutta questa salita, oppure tutta questa discesa. Ora, il trading stop, lo strumento di cui ti parlo oggi in questo video, serve proprio per evitare questo problema, anche perché nel trading c'è una frase storica, ormai famosa, celebre frase, che dice che devi lasciar correre i profitti, però al tempo stesso devi limitare le perdite. Quindi il trading stop serve proprio a questo, a non fissare un Take Profit, ma a lasciar correre i rendimenti, però al tempo stesso a posizionare automaticamente lo stop loss in maniera dinamica. Noi in realtà potremmo fare tutto questo procedimento anche manualmente, cioè lasciamo stare il Take Profit, in questo esempio, se continua a salire il mercato, noi riposizioniamo manualmente lo stop loss di volta in volta e lo facciamo salire, così se poi il mercato scende, becca e tocca il livello dello stop loss e chiude l'operazione. A quel punto, ragazzi, se ad esempio chiudesse l'operazione qui, vi ricordo che non è più uno stop loss in realtà, perché non andiamo a chiudere l'operazione in perdita, ma è comunque in guadagno, perché noi siamo entrati qui. Questo lo si fa manualmente, altrimenti il trading stop è lo stesso procedimento, però è dinamico e automatico, cioè non lo dobbiamo fare noi manualmente, ma lo fa la piattaforma che utilizziamo. E vi ricordo, prima di magari parlare di altro, se no poi magari mi scordo, che il trading stop su MetaTrader funziona solo se la piattaforma è accesa nel vostro computer, quindi se è spenta, anche se avete impostato il trading stop, smette di funzionare. Quindi occhio, ragazzi, a questo. Ora, trading stop serve proprio per massimizzare i profitti e praticamente segue il prezzo, quindi nel nostro caso, se andiamo long, segue il prezzo se il mercato è favorevole, quindi se il mercato continua a salire, lo stop loss, vedete che sale, aumenta, mentre se il mercato rimane fermo oppure scende, questo qua, lo stop loss non viene modificato, soprattutto quando scende non viene modificato. E proprio, vedete, in questo caso, vedete che il mercato qua scende, lo stop loss rimane ovviamente fermo, non è che sale, rimane fermo, o non è neanche che scende, ma rimane fermo qua. E quindi quando va a toccare questo livello di prezzo dove è in vigore lo stop loss, il nostro ultimo stop loss, allora chiude l'operazione. E anche qua, vi ricordo, ragazzi, che se fossimo entrati magari qui, vedete che questo stop loss in realtà non è uno stop loss, ma è un modo per chiudere l'operazione e la chiudiamo in guadagno. Il trailing stop serve proprio per, sì, limitare i rischi, però fare operazioni anche a, praticamente a rischio anche quasi prossimo alla 2-0, perché magari si attiva lo stop loss a breakeven, noi lasciamo correre i profitti, quindi, mal che vada, vendiamo in pareggio, ok, oppure vendiamo in guadagno. Stessa cosa vale per lo short, solo che vedete che segue il prezzo ovviamente quando il mercato è favorevole, ovviamente noi guadagniamo nel caso short quando il mercato scende, quindi lo stop loss continua a scendere, mentre se il mercato sale, vedete che lo stop loss rimane fermo, e se il mercato quando risale tocca lo stop loss, si va a chiudere l'operazione. Ora, noi di trailing stop abbiamo in realtà tre tipologie di trailing stop, cioè possiamo mettere il trailing stop in base ai pip, e nel nostro caso dobbiamo utilizzare questo su MetaTrader, oppure esiste uno stop loss, no, scusate, un trailing stop a percentuale, quindi magari potete settare un 5%, quindi in base all'andamento del sottostante, del cross che seguiamo del 5%, anche lo stop loss va a scatto e si alza, no, segue il mercato, si è favorevole, altrimenti resta fermo. Stessa cosa per, magari per le azioni, dove non si lavora magari in percentuale o in pip, però a livello monetario, quindi possiamo dire che ogni, che ne so, per un titolo che vale 10%, possiamo inserire un trailing stop di 5%, quindi ogni 5%, lo stop loss viene mantenuto di 5% alla distanza del valore di mercato. Quindi sono queste in realtà le tre tipologie di trailing stop. Adesso vorrei farvi un altro esempio per farvi capire magari meglio, poi vi faccio vedere anche come si setta, questo l'abbiamo già visto, vi faccio vedere come si setta su MetaTrader, vi faccio anzi due esempi, questo qua è in base ai pip, facciamo finta che noi apriamo una posizione long euro-dollaro a 1,12, e un trailing stop di 30 pips, che poi su MetaTrader in realtà bisogna stare attenti, poi ve lo dico il perché, e facciamo finta che c'è uno stop loss iniziale, quindi a meno 30 punti di quanto siamo entrati noi a mercato, quindi lo stop loss iniziale a 1,11,70. Se euro-dollaro sale a 1,12,60, lo stop loss di conseguenza, se abbiamo il trailing stop attivato a 30 pips, sale anche questo a 1,12,30, per cui non siamo più in realtà in, non può succederci di andare in perdita, perché lo stop loss è più alto del livello a cui siamo entrati, ok? Faccio un altro esempio, se euro-dollaro sale a 1,12,90, lo stop loss passa poi a, qui mi sono scordato qualcosa, a un 1, anzi lo scrivo altrimenti qualcuno magari si può fare confusione, quindi il stop loss passa a 1,12,60. Se però l'euro-dollaro vale, va da 1,12,90, poi si arriva a 1,12,60, quindi scende, scatta lo stop loss, quindi lo stop loss rimane in sostanza fermo se il mercato va contro la nostra direzione di trading. Quindi qua scatta e vado a chiudere l'operazione. Adesso vi faccio vedere anche quest'altro grafico, magari che a livello monetario, vedete che la linea blu è il prezzo corrente del titolo, questo credo era un titolo azionario, e il trailing stop invece è la linea rossa. Allora, se il titolo vale 15, vedete che il trailing stop è fissato a 10, se il titolo passa da 15 a 20, vedete che aumenta anche il trailing stop, viene aumentato, poi quando rimane stabile, rimane stabile, quando scende qua rimane sempre in questa posizione, poi quando risale di altri 5, vedete che sale anche il trailing stop, il trailing stop, cioè lo stop loss, l'ultimo livello di stop raggiunto è di 20, il titolo vale 25, poi quando il titolo scende da 25 a 20, vedete che l'ultimo stop loss rimane stabile, e viene preso in pieno, quindi si va a chiudere l'operazione. Adesso andiamo a vedere come si fa a settare un trailing stop su MetaTrader. Ora, siamo su MetaTrader, possiamo magari, intanto vado qua su posizione aperta e fa vedere l'ultima posizione aperta che avevo aperto così a titolo di esempio, possiamo magari creare, magari entriamo a mercato qua su sterlina dollaro, e quindi andiamo intanto da qua, possiamo far partire un volume, va bene questo, per fare un esempio, e facciamo uno stop loss iniziale, possiamo fare di 1,28 così, no, ho sbagliato, 1,28. vado a comprare, vedete che mi lancia l'operazione qua, è questa qui, è la seconda. Ora, io se voglio settare un trailing stop, e anzi ve lo faccio vedere anche, ah no, ci sono dal grafico, era questo, ho sbagliato. Vedete che lo stop loss è fissato qua, praticamente, e noi, il nostro prezzo di acquisto invece è questo qua. Va bene? E non abbiamo un take profit per ora. E il take profit, questo mi sono scordato di dirvelo, ritorniamo un attimo qua, quando è che viene utilizzato questa cosa del trailing stop? Poi torniamo anche su MetaTrailer. Allora, viene utilizzato quando ci sono fasi e trend molto pesanti nel mercato, sia rialziste che ribassiste. Quindi il trailing stop viene utilizzato per lo più in queste situazioni, quindi quando ci sono trend che molto, vedete che pesantemente rialzano, come in questo esempio, o trend a ribasso, come in questo esempio. Mentre non viene utilizzato quando ci sono fasi di mercato laterali, cioè quando il prezzo di un determinato asset oscilla in un range tra supporto e resistenza. Quindi non ci sono, poi vedremo meglio, perché dedicherò un video a questo, che cosa sono supporto e resistenza, però sostanzialmente nel mercato laterale non si ha un brusco, una tendenza a salire o a scendere, ma il prezzo comunque tiene un range. Ok? Torniamo un attimo a MetaTrailer. Vi dicevo, come si setta un trailing stop? Il nostro è questa, l'ultima posizione. Proviamolo a settare qua. Clicco con il destro, vedete, trailing stop, e mi dà varie opzioni. Ora, quando vi dicevo di stare attenti su MetaTrailer, è questo, che questi qua, i punti che vedete, 25, in realtà non sono 25 pips, ma sono 25 punti, quindi in pips sarebbero 2,5. Per cui anche questo 20 punti sono in realtà 2 pips. Quindi se volete anche personalizzarlo voi, e volete dare che il livello di trailing stop magari è di 15 pips, dovete mettere 150. Ok? Andate a dare l'ok. Vedete che adesso abbiamo una casella gialla. Questa casella gialla vuol dire proprio che è attivato il trailing stop. e vi ricordo che per farlo funzionare, per farlo andare, dovete avere MetaTrader aperto. Ora, in base al nostro trailing stop, si muoverà ovviamente il nostro stop loss, cioè se vedete che noi abbiamo fatto un'operazione di acquisto, quindi se il mercato sale e sale di, noi abbiamo dato 100, quanto abbiamo dato? No, abbiamo dato 15 pips, se sale di 15 pips, allora anche lo stop loss viene modificato, non sarà più qua, ma automaticamente sale al salire del titolo. Caso contrario nel caso short. Come faccio a togliere il trailing stop? Clicco con il destro, vado su trailing stop, poi vado, cancella tutto. Vedete che mi dice, vuoi cancellare tutti i trailing stop? Metto sì e vedete che me lo ha cancellato. Va bene? Ok, per oggi è tutto ragazzi, spero sia stato chiaro. lasciatemi magari un like per far capire che questa serie vi sta piacendo e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!